ragazzi un altro shiny dopo il nasli sapete chi c'è indovinate avete capito bravi shiny l'ombra oh my god che bello che bello e sapete cosa vuol dire questo lo dico quindi avete capito no bene ora io gioco la mia solita ignoranza che lo sapete che io inizio sfida devo usare la velos ball ok a tra poco eccola velos ball vai andiamo dai 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 1 2 3 yes kacin ottimo perfetto 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 l'ombre catturato ottimo ecco qua nessuno sappia il nome ovviamente ha scelto uno strumento che è una battastagna ok ottimo perfetto ok ora lo testeremo e poi lo faremo volvere vediamo vediamo chi sono sfortunato vediamo il danno l'uso a fascino ma non ve l'ho fatto vedere lo vedremo da poco fino a finita l'altro vedremo non gli faccio nulla ragazzi non gli faccio nulla non gli faccio nulla l'uso a fascino sì vabbè no proprio dai avanti farlo fuori dai riduttore all'attacco grande l'ombre mi piace già perfetto un ps è rimasto con un ps è ancora baronda riduttore all'attacco inizio ok ottimo perfetto ecco qua il nostro l'ombre con idropompa con 7 zent privazione bala onda ora andiamo a fare le volve che vedete ovviamente le vi sono buone sono buone le vi vedete ok a tra poco dopo di che volare la cara e andare a coni coni nel negozio delizia a comprare una pietra idrica eccole qua le pietre pietra focaia pietra tuona pietra idrica pietra folga non prenderemo la idrica ovviamente ho messo scritto sì ora faremo usa e lo faremo evolvere ecco evoluzione innescata ottimo vai la nostra bellissima lo dico la shiny che bella che bello di cosa mi sa anche piaciuto ottimo perfetto ora vi daremo un'occhiata eccolo qua il nostro bellissimo lo dico guardate che bello che bello solo per la granina il nostro bellissimo che è il nostro non è troppo altissimo che è il nostro perfetto e il nostro chino mi sa che è fatto c'è anche il nostro amico e anche il nostro some e anche il nostro bello capiore divaro di corsetta zen dai vediamo fai un buon danno buon danno buon danno con bella onda lo finiamo ottimo perfetto ottimo perfetto vittoria vittoria e niente ragazzi da me è tutto il mio ridicolo segno vi salutiamo ciao al prossimo video da mattia è tutto alla prossima bye bye